è stato sicuro il provinciale che che il centro di d'anni ma poi il giovedì è il giorno più più praticato ma che cazzo hai visto una cosa così questa macchina ha mai visto uno tirare la sinistra prendi piccolo medaglio poi svolta a sinistra e prendi piazza Cattuglia della Libertà sinistra e prendi piazza Cattuglia della Libertà svolta a sinistra e prendi strada provinciale non guarda, non guarda, non guarda, non guarda ah si è così cazzo caglione qua non vedi niente è uscita la rotonda e vai via continuare si vai vai via continuare dai chiedi per il santuario eh scusi 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 signore sa per tanto dove è il santuario? grazie sono tornata eh possiamo fare il cavalcavia? si dai è stato strada questa qua sotto si si devo tornare in piedi eh va bene eh va bene hai la mia sensazione o qua? ha tremato figa ma trema qua oddio caro vai l'ho fatto partire ma si senti? l'ho fatto partire ma che cosa? io andrei e basta va là mi fai uccidere una fine che è sempre in avanti non c'è la neve che non si vede niente eh si vabbè questo è un po' di Parigi Roubè Parigi Roubè che bello questo qua è bello per il video la ciclavi la sinistra si la ciclava la sinistra si la ciclava la sinistra ma non la vediamo bene se ne ho fatto il training in Gran Bretagna queste cose qua all'interno così c'è di Cremona se vai a rivolta ecco c'è una via dove abita un mio amico c'è la stabilitura qua perché te vedi tutti i segni delle bici facci caso la stabilitura eh scusi signore possiamo chiedere dove la stabilitura la stabilitura si conosce magari quella rivolta non so neanche cosa c'era neanche io sincero perché noi ciclisti roviniamo tutti i muri appoggiando le bici si vabbè lo stesso posto allora dalla banca la giornata ti ho provato te ma c'ha ragione guarda dici che è questo può essere beh magari c'era ti non ho mai visto così tanta gente in vicino eh di che è un monsigno però però nel senso guarda come farà ha un assimo al grero di marmonelle si perché dopo ci sono varie varie altezze e e poi che gli giri è usati deficienti si ho confermato ci aveva un po' ragione poi allora può dire che ci sono tante bici appoggiate perché una, due, tre, quattro, cinque sono tante in effetti però dire che questa roba qua è colpa delle bici mi sembra un po' eccessivo no guarda che con uno c'è senso un bel cuore eh però fan bene c'è però stra, qui non li legano neanche eh sì però non mi fiedere salve devo chiedere un'informazione eh sto registrando, posso? vai alla rivolta d'Adda e vedrai le vie rovinate dalle, dalle, dalle biciclette può essere confermata ti hanno detto di non pucciare la bicicletta al muro perché ruvino perché si rovina la facciata e qui un po' è è vero allora come cosa ma non posso dire che è vero però se tu guardi i muri vedi veramente alcuni segni eh sì c'è più caldo la tabaccheria qua, qua sopra si vieni a vederci fin giorno tante ed in effetti guarda che qua eh sono tantissime secondo me è questa sia un paese di ciclisti secondo me è la via questa che diceva perché guarda quante macchie, quante bici ci sono però penso che sia il motivo per cui sono segnati i muri le bici sì esatto anche quella di appoggiata sì no in effetti però cazzo non ho mai visto una città come dire nella bassa con così tante bici confermato sì e no direi proprio di sì nel senso in effetti il signore che si lamentava che c'erano tante bici appoggiate e muri non possano dire che ha torto sì sul fatto che siano tutti rovinati dalle bici la vedo un po' eccessiva no? ciao ciao anche come è fatto il manubrio perché se è un manubrio fatto di metallo alcune cose lì dopo beh sicuramente secondo me i manubri delle bici da donna da casa da passeggio che magari hanno un piolo che è in vetro ma questo qua su qua con un asco in manubrio non penso troppo esatto vabbè quindi già aveva ragione cazzo il signore sì aveva ragione un po' no dai via sì qua si sta ma che bella strada guarda il mico una battuta no dai ma ci fai lì 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 ma lì ma lì è lì 20 di mattina guarda che l'ho vista anche a crespitata quell'ora lì quindi ma che ciclabile è questo che merda una cesta sta roba c'è uno strappo ogni 2 metri entra che la facciamo eh entra la pelicolosissima c'è bisogna mettere il vidro guarda poi forse il zio camminano sulla ciclabile ciccio allora vi 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 grazie una ciclabile e marcia a piedi ma che cosa ho detto si è detto che ho detto qualcosa e perchè ho preso tipo un un rametto nei raggi gli è partito in parte che ci spito ha? ah come l'anno ma andro Iscriviti al nostro canale